E salve a tutti amici e bentornati in questo nuovo video, questa volta non siamo né su Deep Rock né su Escape from Tarkov, ma siamo su Star Citizen Credo che tutti lo conoscono, però per chi non lo conoscesse sarebbe un gioco Prendiamo per esempio No Man's Sky, però qua puoi fare molte più cose, molto più bello e tutto quanto Allora, in questo momento per dire se si va su Universe non si può fare molto a parte qualche missione ma tutto nello spazio Mentre verso fine luglio dovrebbe uscire la 3.0 che è quella dove cambiano tutto Ovviamente si può andare nei pianeti, le missioni sui pianeti e così via Quindi per questo ve lo porto, così ve lo faccio già vedere almeno visto che io non ho visto tantissime persone italiane Se non nessuna che ha portato Star Citizen, o magari l'hanno portato ma sono stupido E quindi lo vorrei portare Perché non siamo su Escape from Tarkov, volevo portarci un video ma credo non sia il caso Perché è uscita la patch pre-beta Perché ora a luglio esce la closed beta Hanno annunciato E quindi C'è un sacco di problemi È più fluido, cioè adesso l'hanno cambiato in motore È sempre Unity però in Unity mi sembra la versione 5.6 E utilizza il DirectX11 E quindi insomma per me che ho un iset, insomma che ho cose da X11 va bene Insomma, insomma, mi sono cose da X12 diciamo Insomma, va molto più fluido però il problema è che Crash I bot sono veramente OP Cioè te non fai, magari, no, scav se te non gli caghi non ti fanno nulla Però se per esempio vado in Factory a fare un PMC normale Ti massacrano, cioè Sembrano player, non fanno in tempo a vederti che già ti shottano È un po' caotico Quindi aspetto che esca la closed beta Magari ogni tanto qualche video ce lo fa Però adesso che bisogna fare un po' di gear Insomma, eh Poi non ci sono tutte le cose che hanno annunciato nella closed beta Quindi farò forse qualche video Però poi quando inizierò a farne tanti Quando uscirà la closed beta appunto Quindi closed beta a luglio di coso? Di escape Questo qui 3.0 a luglio Perfetto, tutto a luglio Comunque Io direi di andare a fare uno Star Marine Che poi anche se fanno deathmatch cose strane Facciamo l'assist stand Che sarebbe tipo un No, sì, un dominio insomma Quindi niente Io cerco un match e ci ritroviamo dopo Ok, eccoci qua Abbiamo trovato la partita Allora Io spero che tipo non si senta Il gioco Perché Non ho più cuffie Quindi Me le devo comprare Cioè il prima possibile me le compro Quindi sto usando le casse E spero non si senta Teoriamente non si dovrebbe E comunque Se ve lo chiedete Lo sto registrando in HD 1280x720 Perché Se questo lo metto in full HD Ve lo vedo sfanculizzato io Se lo metto alla mia Risoluzione Si vede Insomma Si vede male Poi non posso mettere le cose Che metto alla fine Insomma Quindi preferisco fare così Cosa volevi fare Ma davvero Ma dai Ma tipo saltando Per fare cose strane Allora Quindi io Cioè Diciamo che non lo sento Il gioco Cioè lo sento poco Vabbè Comunque Quindi ogni volta che registrerò Sto gioco Mi sa che farò così O tipo mi attacco All'altro schermo Non so vedere Comunque Andiamo su C Facciamo un po' di culi su C Eh Veniamo Spero Più che altro Che non ci voglia Un'eternità A caricarlo Perché Sarebbe un grandissimo problema Per me Cioè sai Se fosse un giga Tutta la notte Ce lo carico E ciao Però se non fosse un giga Un po' un problema Allora Aspetta Ah no Ok ce l'ho già Tutti e due Sono morto Io il vizio di passare Quando se passassi Dall'altra parte Troverai più gente Magari Da massacrare Forse Oh Oh Aiuto Cosa è successo Aiuto Madonna Oh 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 Piano eh Piano Piano No Però non vale Mi stavo curando Minchia In 25 secondi Spawno Ma cosa Perché Poi guarda Sono già a 115 Il primo round Quanto cazzo viene lungo Cioè se continuano così A vincere loro in 3 secondi Allora va bene Sai Sti round si fanno veloci Ma se tipo poi ce lo contestiamo Il video viene di mezz'ora È troppo lungo Ma di Ma perché fanno così Dai No No 20 secondi dove ho detto Cazzato Ok Che poi io mi chiedo Nel numero 1 c'è la pistola Perché nel numero 1 La pistola Madonna E vabbè Ci prendiamo questo Che è il più bellino E vabbè E passo di qua Quando avevo detto Che Io voglio passare di là Ma è non sbattere la testa Che poi Ti fai male Insomma No Allora Io Ecco Ecco Mannaggia Perché mi ha dato lo scatto Qui Altrimenti secondi Dopo un'eternità Di attesa Sono risponato Ok Allora Sono già quasi a 8 minuti Se non Già 8 minuti Di registrazione E vai così Allora C'è tipo uno Lassù Infatti Ce la fa? Non ce l'ha fatta No E no Non vale No dai Non va bene Cerco di ammazzare uno Poi arrivi Ti No dai Così non va bene Allora usiamo un po' questo Ah ok Ah va bene Ok Ho fatto 2-4 Perfetto Ottimo Dai Il round 2 Andiamo Sì Yeah Yeah che bello Andiamo a morire A perdere male di nuovo Prendo C Sì Prendo C Ok Uno è andato È vero con questa arma non si ricarica nemmeno Posso andare avanti Bene Ottimo direi Ci sono Non ci sono rimasto male Non preoccupatevi No no Ci sono rimasto Bene Dai Dai ma quanto lenti siete Un'altra granata E basta Vieni qui Vieni Ancora Ma non sei morto Ma chi è Ancora sto LTP Ma Ma dio di dio Ma dio di dio Chi è Chi è 172 Ma è un Vabbè Di merda Che se la canta Era lì Pure lui Mannaggia Lui A chi l'ha fatto E a tutta la sua famiglia Oh Per diamine E no E c'è Chi è Ovvio Ovvio LTP È dietro Ovvio È lui È sempre lui Ovunque Ovunque È il basilico Peggio del basilico Mannaggia Lui Se lo rivedo Gli faccio Rimpiangere Di essere nato A quel pezzo Di sterco No Andiamo di qua Non vorrei un cazzo Di andare di là Madonna Vieni No No Vabbè Ma questo Che cos'è Che cos'è Salta Ti spara Con le stesse armi Mortale Ma perché Ma perché Ogni partita Succedono cose del genere Una volta Registro un video Su Argo C'è uno che rompe Il cazzo Poi è sempre lui Cioè Sono morto Quante volte Dove è F1 Sono morto otto volte Almeno prima ero morto due Ecco Sei volte morte da lui Adesso Tutte e sei le volte di merda E a lui non gli arrivano i qua Ah forse perché c'è Se ne lancia una così E mannaggia i Qui non Diciamo Dai perché Siamo persone Grave Vieni Eh vabbè E vabbè Chi mi ha ucciso Luca Ci siamo uccisi a vicenda Cosa hanno di speciale Nelle loro armi Che io non ho Cosa Cosa Allora Vediamo se riesco a fare qualcosa Perché davvero eh Che vedevo le cose rosse Comunque anche questa Ha perso Ma perché mi Oh Io ne lancio Tipo una granata lì Ma mi importa Una sega a me Mi importa proprio Una sega Eh visto Visto come si fa Eh Eh Le granate a caso Eh Minchia 24 3 Ma quello è veramente ovunque Credo sia 3 Perché Non lo vedo bene Credo di si eh Allora Vediamo un po' Se ci riusciamo bene Comunque ovviamente Ditemelo eh Se Se volete che lo porti Cioè magari Ci farò un altro video Quando uscirà la 3.0 Però magari ditemi Se ci porto magari ogni tanto Qualche partitella In questo modo E volevo dirvi che Lunedì Dovrebbe uscire un video di Arco Che ho registrato Quell'altro Insomma Questo lunedì Che è già venuto Però Non riesco a caricarlo Perché Ci mette Un eterno Oh ma Me lo fai Cos'è Perché Non ci metterebbe Un'eternità a caricare Quindi diciamo Devo tenere Il pc acceso Venerdì notte Tutto sabato E se non ha finito Sabato notte Giusto per farvi capire Quanto Ci devo mettere a caricare Un video Anche se pesa 2 giga Insomma 3 giga To Quindi Eh Eh Io mi piacerebbe Tanto fare le live Però C'è Proprio Non ce la fo Con sta connessione Non ce la fo E Tipo Avevo In mente di fare E E E E E E Lo vedo Aspettate Eh No Allora Così Così Va bene Va bene Comunque Io volevo Cioè Mi piacerebbe Fare qualche live Perché volevo Magari portare In live Coso Stalker Shadow of Chernobyl Tanto per riprendere Diciamo un po' Coso Il signor Escape from Tarkov Però Insomma Il problema Ve l'ho già detto Ovviamente No Non mi sembra La forse L'utp Quindi Cioè Allora La live La posso fare Ma si vede di merda Questo che dico Cioè Si vede proprio Tutta troppo Grandpixelosa Troppo bruza Quindi insomma Non la potrei portare No Ora Quelli ci stanno Prendendo C Qui arrivano Granate Io scappo Vado su C Io Non so cosa fare Ovviamente Dietro Ed è L L T Ma sei ovunque Ma come fai Eppure Sei morto solo Quattro volte E ti ritrovi dietro O quello Cioè Allora Sicuramente C'era Ma Ma Paledi Cioè Conosce tutti i posti Dove andare E E Arrivano Ma cosa vuoi Cosa vuoi fare E io lancio una granata Ovviamente era Non era le tp Uccido qualcuno Uccido qualcuno Non uccido nessuno Non ho ucciso nessuno Mi odiano tutti Certo comunque Stiamo vincendo No Siamo troppo forti Cioè Davvero Non sto scherzando Siamo forti Stiamo vincendo Vieni 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 Ma 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 Allora lo fate apposta Di mettervi nel mezzo Pezzi di merda Ma di dio Sto Ah Perché Perché Meno male Che lo sto prendendo Sportivamente Per fare il video Sono a quest'ora Avevo già spaccato Questo schermo E devo dare via A casa Per ricomprarlo Mannaggia Comunque sto pensando A tante cose Del canale Qualcosa da portare Magari Se vi interessa Sotto 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 fatemi Insomma Delle domande Perché magari Se vi interessa qualcosa Fatemi delle domande Quando ce ne saranno abbastanza Quando ce ne saranno abbastanza Risponderò Però Non è che faccio un video Rispondo alle vostre domande No no Faccio un video Rispondo alle vostre domande Scusate eh Certo Non faccio un video Rispondo alle vostre domande Ma faccio un video Rispondo alle vostre domande Rispondo alle vostre domande Però no Non vi dico Ah Così Un colpo Va bene No ma un video Velocino Che rispondo a qualche curiosità vostra Fatti il culo È 615 Quell'altro 31-6 E noi che hanno giocato in due Bene Abbiamo vinto Abbiamo vinto No Non lo sapevo Ma siamo troppo forti Ma Che pe 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 Ma cosa Cosa vi credete voi È durato quasi 18 minuti Se non 18 minuti E Niente Che dirvi Sì vi ho proposto queste cose La cosa Della live Potrei portare video Ma non lo so Perché io non sono tanto per Portare Delle serie Diciamo Chiamiamole così Quindi magari potrei portare Ogni tanto Qualche Qualche Non so Cioè magari faccio qualche missione Così via Poi me lo gioco da solo Poi magari quando mi va Un'altra missione Così via Non proprio Faccio mezz'ora Un video di mezz'ora Tove lo carico Poi faccio un altro video Poi magari gioco un'altra mezz'ora Tove lo carico Perché no Poi ditemi voi Insomma Se volete la live Ma Proverò a farne una Se si vede male Poi pazienza Magari Se l'ho iniziata Boh la finisco La faccio durare qualche oretta E poi Basta E Ditemi se volete Che porto questo Con la 3 Cioè Con la 3.0 Un video ce la fa Ditemi se magari In attesa Ve lo continuo a portare Ditemi se volete Che inizio a cambiare Ora il nome Del canale O no Ma anche se Cioè io Io vorrei tenere questo Più che altro Perché Magari la gente Si Vede Il Che si chiama Escape from Tarkov Italia Però comunque Vede altri video Insomma Capite Quello che dico Il gioco principale Escape Però ne vede altri Ok Tutto per Perché è nato Per quello E è bello Insomma Avete capito E vabbè niente Noi ci si vede Nel prossimo video Ditemi voi Di cosa pensate Tutte cose Ve lo ho detto Di tutte le cose Che vi ho detto Tanto sapete Come farlo capire E niente Io vi saluto E ci si vede Alla prossima Ciao Ciao